Perché non puoi avere le nuove Jordan di Travis Scott se non sai giocare a golf. Tra poco usciranno le attesissime Jordan Wallow Golf di Travis Scott, che si differenziano dalle altre per via di una suola particolarmente rinforzata. Per combattere i reseller, lo store londinese Trendy Golf ha deciso di chiamare i vincitori della Raffle Online e permettere di acquistarle soltanto a chi riuscirà a fare un tiro di 200 metri. Te la cavi a golf?